benvenuti a questo nuovo video del conevi channel italia oggi avrebbe dovuto essere la quarta puntata sul sistema multimediale ma dall'ultima puntata ho scoperto alcune cose quindi si parleremo comunque del sistema multimediale ma in maniera molto più easy che cosa ho scoperto allora incuriosito da quanto mi aveva chiesto quanto aveva detto ezio auditore a proposito del fatto che nella paginata evi le colonnine che venivano presentate non erano quelle più vicine all'abitazione o la posizione in cui si trovava per cui per poter vedere le colonnine bisognava entrare dentro hyundai live riaggiornare eccetera in più avevo il problema dell'autovelox che mi riconosceva una colonnina sola di tutte quelle che prima mi riconosceva e quindi evidente che stia funzionando perché se non se non me l'avesse riconosciuta nessuna voleva dire che c'era qualcosa se una la riconosce anche se con modalità diverse rispetto prima però la riconosce vuol dire che in teoria funziona però come mai tutte le altre invece non non le riconosce più e in più avevamo anche la storia degli edifici 3d di cui abbiamo parlato con luca colombo anche e quindi sono andato in concessionaria e ho detto ma vediamo se sanno darmi delle informazioni in questo senso abbiamo visto con christian tutte queste problematiche alle quali ovviamente non abbiamo non siamo riusciti a dare una risposta e però mi sono accorto di una cosa particolare in concessionaria c'erano una cona 64 kilowatt x class del 2021 e una cona 64 kilowatt excellence esattamente come la mia modello 2020 e su queste macchine siamo andati a vedere allora sulla cona 2021 intanto già le icone e la disposizione erano diverse rispetto all'immagine che mi ha mandato giuseppe scattolini quindi qui c'era già qualcosa di diverso e anche sulla cona 2021 le colonnine indicate nella prima schermata e vi erano colonnine distanti da quelle che in realtà sono lì intorno tra l'altro lì intorno proprio all'aeroporto ci sono due colonnine fast e che sono anche colonnine in corrente alternata e quindi non è un problema di magari settaggio delle colonnine di impostazione delle colonnine proprio dava di nuovo delle colonnine lontanissime invece sulla cona 64 kilowatt excellence non c'era ancora il sistema multimediale con i profili per cui era un sistema precedente all'ultimo aggiornamento che è stato fatto sulla mia però in quella versione le icone erano di nuovo diverse sia dalla versione precedente mia quella prima dell'aggiornamento sia da quello dopo l'aggiornamento e qui altra cosa strana le colonnine effettivamente nella prima schermata della pagina e vi erano indicate quelle vicine alla posizione dell'auto senza nessun motivo apparente di diversità rispetto alla mia macchina non solo ma su questa cona ev 64 kilowatt excellence c'era come nell'auto di giuseppe scattolini la possibilità di cambiare il colore al percorso sulla base del traffico ma questa funzione non c'era nella cona modello 2021 quindi capirete che questa cosa qui ti lascia un po perpresso per cui christian mi fa ma guarda vai a parlarne col capofficina che poverino si spaventa tutte le volte che mi vede entrare per il momento si spaventa poi magari più avanti si arrabbierà pure perché ovviamente io vengo lì per fargli delle domande alle quali non sempre è in grado di rispondere soprattutto su cose di questo genere che infatti mi fa guarda è entrato in macchina abbiamo visto gli ho spiegato tutto quanto è stato lì un quarto d'ora mi ha dedicato un quarto d'ora 20 minuti e quindi lo ringrazio perché penso che non sia da tutti e mi fa guarda per quanto riguarda queste cose sono problemi di software sui quali noi possiamo far poco se vuoi e lo ringrazio per la disponibilità noi comunque facciamo una serie di ticket all'assistenza hyundai per avere delle risposte e mi fa anche guarda che però nel 90 per cento dei casi la risposta che ti danno è aspetta la prossima il prossimo aggiornamento e quindi non so quanto questa cosa qui anzi mi fa forse ti converebbe telefonare direttamente tu perché normalmente i un d'italia sono piuttosto attenti alle richieste degli utenti è vero io ho fatto una telefonata mi hanno risposto dopo 50 giorni però mi hanno risposto e anche su questo mi dice sì perché in tutta italia sono una decina di tecnici che lavorano non nel settore multimediale ma in tutti gli aspetti del di tutte le cona quindi non soltanto di quella elettrica e quindi capirai che tutti i giorni ricevono 10 15 richieste e le mettono in ordine a seconda della gravità se a qualcuno gli è cascato il motore per terra è ovvio che è più importante ha una priorità maggiore rispetto alla mia che dico come mai non vedo le colonnine vicine quando accendo la macchina capirete anche voi che il problema è questo quindi proverò a telefonare alla hyundai e vedremo che cosa mi diranno per quanto riguarda invece che cosa aveva detto luca colombo sugli edifici 3d il il capofficino ma guarda che anche io sulla mia macchina che non è hyundai ho questa voce sul navigatore ma non ho mai visto un edificio 3d quindi probabilmente questa cosa degli edifici 3d è una predisposizione del navigatore a far vedere queste cose ma le mappe devono contenere questi dati e anche lui mi ha detto come luca colombo probabilmente tipo a torino a milano dove essendo delle grandi città le mappe sono più dettagliate magari questa cosa funziona certo che a ruasano a ossa è più difficile quindi sicuramente proverò questa cosa perché tanto io a torino prima o poi ci vado di nuovo e sarebbe però interessante se qualcuno del canale che ha una cona ci dicesse se ha mai visto questi edifici 3d nel navigatore quindi tutto il mio lavoro io che pensavo che ci fosse un navigatore tipo 1 un navigatore un sistema multimediale tipo 1 e un sistema multimediale tipo 2 per cui mi ero preso la briga di spiegare cercando di essere il più preciso possibile come funziona navigatore tipo 2 in pratica non ha più molto senso anche luca lunatici mi ha scritto dice ha scritto sul sul canale youtube dicendo bene questi video così a luglio quando andrò a fare il tagliando saprò utilizzare perfettamente sarò in grado di usare in in tutte le sue funzioni il sistema multimediale mi perché magari da quando l'ho portata io a giugno a quando la porta luca a luglio è già uscita è già uscito un altro aggiornamento per cui ci sono comunque delle cose che sono diverse detto questo vorrà dire che parliamo ancora del sistema multimediale però lo faremo più easy visto che comunque dopo 15 giorni potrebbe di nuovo essere ribaltato tutto è vero che le funzioni principali sono quelle non è che sono cambiate però ci sono molte differenze da una versione all'altra quindi lo affrontiamo in maniera più una buona notizia fabio bertaglia che è venuto a trovarmi e quando è venuto a trovarmi è venuto a trovarmi con l'auto di servizio di cortesia che gli è stata data dalla concessionaria perché era rimasta a piedi con la sua per la batteria di servizio e in più sentiva anche un rumore strano nel motore gli hanno restituito la macchina dove e la vediamo qui fa bella mostra di sé l'adesivo del con evi channel italia morale della favola la batteria di servizio aveva era proprio difettosa e quindi non è sta lui pensava ma magari ho lasciato una porta aperta per cui la segnalazione l'ha fatta scaricare magari che so io ho dimenticato le luci accesa anche se non è possibile posso aver fatto qualcosa del genere invece è proprio la batteria che difettosa gli erano sostituita e il problema è risolto non ho ben capito ma dovrebbero aver individuato anche il problema del rumore al motore evidentemente non è un problema che pregiudica il funzionamento della macchina stanno aspettando che arrivino i ricambi penso proprio dalla casa madre o poco ci manca stanno aspettando che gli arrivino i ricambi e poi risolveranno anche questo quindi un applauso alla concessionaria Hyundai e devo dire che ho sempre fino adesso anch'io quando sono andato sia nella concessionaria che nell'officina convenzionata per la Hyundai ho sempre trovato persone disponibilissime cortesi che si sono sempre messi a disposizione hanno sempre cercato di risolvere i problemi abbiamo fatto un lungo pippone e quindi vediamo di vedere ancora alcuni aspetti di questo sistema multimediale eccoci di nuovo nell'auto una delle dei cambiamenti è che abbiamo la possibilità se non ci basta alzare gli occhi al cielo di vedere qual è la situazione meteorologica ma non solo quindi vedete abbiamo la possibilità di vedere a tre ore e a sei ore che cosa succederà e la previsione nei giorni successivi devo dire che oggi quando sono quando mi sono svegliato effettivamente era tutto coperto completamente nuvoloso adesso sta uscendo il sole ma come vedete proviamo ad aggiornare vediamo se cambia qualcosa no non cambia nulla e quindi qui mi sta dando un po' la scelta delle indicazioni come tutte peraltro tutte le previsioni meteorologiche va bene cominciamo con EV la schermata EV diciamo che qui abbiamo più o meno la stessa identica situazione che avevamo prima togliamo questa questa cosa così qua abbiamo il raggio di autonomia dell'auto con la carica attuale e qui la lista come il solito problema parking cura la borsa in pierre eccetera abbiamo già visto questa cosa qua non succede nulla possiamo ingrandire la nostra mappa e niente ci da già anche alcune indicazioni di di colonnine torniamo indietro qui invece abbiamo l'info relativo alla batteria l'autonomia che abbiamo in questo momento e qua abbiamo la possibilità di impostare quanto vogliamo che ricarichi con i caricatori in corrente continua e con le stazioni in corrente alternata o con il portatile questa cosa qui è esattamente la stessa identica cosa di prima premendo batteria abbiamo anche qua il consumo del sistema di guida del clima dell'elettronica e della cura della batteria ovviamente qui adesso è tutto a zero perché la macchina è spenta cioè è spenta non si è mossa forse tra un po' l'elettronica ecco vedete che l'elettronica sta salendo perché nonostante io sia fermo l'elettronica ovviamente sta funzionando questo è il consumo in questo momento è interamente dell'elettronica ok gestione carica qui abbiamo la possibilità di regolare una carica programmata per una partenza e qui possiamo ovviamente fare tutte quante le varie regolazioni ma questa cosa qui in pratica la stessa cosa che c'era già prima quindi non non è cambiato nulla posizione di ricarica usa ricarica in base alla posizione impostazioni della posizione quindi dovrei definire dove vado a caricare presumo limite di ricarica l'abbiamo già visto si può regolare anche da qui corrente di ricarica qua abbiamo la possibilità non mi ricordo se c'era ma penso di sì abbiamo la possibilità per sia per le stazioni in corrente alternata che per le stazioni no qui soltanto per la corrente alternata abbiamo la possibilità se abbiamo dei problemi durante la ricarica magari parte la ricarica poi si arresta perché ci sono dei problemi con la colonnina possiamo caricare al massimo oppure ridurre la corrente di ricarica o metterla proprio al minimo per cercare di vedere che funzioni anche se ci sono dei problemi con le stazioni di ricarica e questo per quanto riguarda le stazioni e questo invece per quanto riguarda il carichino quindi guida eco qua ci dirà quanto abbiamo risparmiato di anidride carbonica ovviamente non sono partito e quindi non c'è nessun risparmio e posso anche vedere la cronologia e il risparmio energetico negli ultimi miei viaggi e quindi quanti chilometri ho fatto e quanto è stata la media di kilowattore per cento chilometri impostazioni modalità inverno qua possiamo metterla in modalità inverno quindi la batteria verrà riscaldata quando la temperatura scende al di sotto di una certa temperatura avvertenza autonomia qui noi se in pratica definiamo un percorso sul navigatore ci verrà detto fin dove arriviamo ci sarà una colonnina ma magari poi lo vediamo una colonnina che ci dice con la carica che hai arrivi fino lì da lì in poi la destinazione è grigia e quindi bisognerà scegliere delle stazioni di ricarica percorso ev gli diciamo di mostrare il percorso ev sulla mappa e quindi vedete la posizione fin dove arriva e il percorso che è fuori campo cioè dove non possiamo arrivare se non facciamo la ricarica e direi che per quanto riguarda la schermata ev abbiamo terminato passiamo alla visualizzazione mappa quando vado nella visualizzazione mappa ho la possibilità di in pratica di chiedergli di utilizzare quella uno dei percorsi che ho fatto precedentemente per avviare un percorso questa è la visualizzazione della mappa vedete io ho impostato nelle configurazioni e le impostazioni gli ho detto di farmi vedere la velocità anche sul sistema multimediale e appare sopra la visualizzazione dei cartelli dei cartelli dei limiti di velocità questo prima sicuramente non c'era una particolarità è che la barra dei menu che prima rimanevano sempre lì le iconcine dopo un po' spariscono e quindi se le voglio richiamare devo premere il tasto con questa possibilità cambio posso cambiare anche da qui la visualizzazione quindi nord direzione oppure 3d qua ho la possibilità di cambiare i volumi dei messaggi e qui ho la possibilità di ingrandire la visualizzazione o ingrandire o diminuire lo zoom abbiamo un menu e sono gli stessi menu che c'erano in impostazione quindi il poi qui posso vedere i punti di interesse nelle vicinanze posso aggiungere il punto di interesse alla rubrica le informazioni sul traffico infotraffico se lo attiviamo oppure no e poi schermo off che abbiamo già visto bene per quanto riguarda la mappa direi che abbiamo finito e siamo al menu di navigazione quindi qua posso cercare un indirizzo una categoria poi una destinazione precedente e poi abilitare la navigazione una particolarità che c'è in questa versione è che ho la possibilità anche di dettare l'indirizzo che so proviamo via Roma a Osta vi diciamo sì a questo punto ecco vedete qui vediamo se riesco a ingrandirlo abbiamo il colore nel percorso quindi lui ritiene che il percorso sia a quest'ora senza traffico perché è verde e a questo punto possiamo avviare il percorso queste sono le cose che possiamo evitare quindi evitare autostrade evitare strade con vignetta tipo in Svizzera ci va la vignetta evitare traghetti evitare strade a percorrenza con orari limitati evitare strade a pedaggio evitare tunnel io lascio tutto perché se no cambia poco un'altra cosa quindi io qui potrei avviare il percorso e poi comincia la navigazione un'altra cosa che manca nella nella mappa del navigatore è la possibilità di segnalare le colonnine autovelox il resto dovrebbe funzionare nella stessa identica maniera per cui abbiamo terminato anche la parte relativa alla navigazione passiamo a telefono la pressione di questo tasto corrisponde alla pressione del tasto dove alziamo la cornetta su uno dei pulsanti a sinistra del volante abbiamo le ultime chiamate il registro chiamate chiamiamolo così abbiamo i preferiti la rubrica possiamo scrivere direttamente il numero di telefono possiamo inviare in teoria anche un messaggio qui ovviamente se gli abbiamo detto che possono essere visualizzati i contatti altrimenti ci dice che per privacy non si possono vedere ok abbiamo due cose che prima forse non c'erano uno è questo microfonino per cui a seconda di dove ci troviamo quindi in preferiti in rubrica in chiamate nel registro delle chiamate possiamo dire dare un comando vocale che chiama nome cognome sovente anche solo il nome o a seconda di quello che avete messo nella rubrica se avete messo prima il cognome prima il nome e automaticamente verrà fatta la telefonata se siamo qui invece si aspetta che noi gli diciamo un numero di telefono e quindi qua abbiamo delle impostazioni vabbè connessione bluetooth aggiungi nuovo questa è un'altra cosa che abbiamo già visto nelle impostazioni un'altra particolarità è che possiamo cambiare dispositivo se noi avessimo più telefoni collegati possiamo dirgli quale di questo telefono deve essere collegato prioritariamente ma se ne abbiamo più di uno lui ha collegato uno dei telefoni prioritariamente ma noi vogliamo effettuare e collegare un altro l'altro telefono e qui abbiamo la possibilità di fare lo swap sull'altro telefono nel mio caso no perché non ho nessun altro dispositivo vabbè qui viene indicato qual è il telefono che in questo momento è collegato al sistema multimediale e direi che anche per il telefono abbiamo terminato proiezione telefono lo vediamo a parte quando vedremo proverò a collegare il mio telefono android all'auto per vedere che cosa succede memo vocale memo vocale ho la possibilità di registrare un memo vocale che vengono memorizzati e poi bisognerà ovviamente ci sarà la possibilità di eliminarli eccetera è una funzione che mi interessa poco e quindi non credo non entro neanche nel dettaglio perché veramente mi interessa poco clima attivazione all'uso del liquido tergivetro abbiamo già detto prima è la chiusura del sistema di ricircolo quando attiviamo l'uso del tergivetro deumidificatore automatico antipainamento automatico questo l'abbiamo già abbiamo già visto se io adesso accendo il clima mi viene fuori che è acceso posso scegliere se è soltanto per il driver ma eccolo qua un tastino qui sotto dove ci sono i tastini del condizionatore eccetera e quindi anche per quanto riguarda il condizionatore abbiamo finito impostazioni abbiamo già visto tutto quello che dovevamo vedere radio in pratica ci accende la radio qui abbiamo il volume possiamo dirgli di cercare le prossime radio e sentire che cosa viene fuori DAB FM bellissime queste si chiamano si chiamavano valvole Dixie ed erano delle valvole che si illuminavano con dei numeri in questo caso indicavano la frequenza sulla radio credo che ci sia poco da dire c'è una funzione che non ho ancora trovato e che era quella che in pratica mi impediva di passare da DAB automaticamente da DAB a FM questo perché in molti posti tipo la Valle d'Aosta c'è una differenza di tempo tra le missioni in DAB e le missioni in FM per cui questo passaggio crea o un secondo di ripetizione della musica che ho già sentito oppure un salto e quindi una perdita di un pezzo di musica non ho trovato ancora dove si regola questa roba qua multimediali in questo caso ho la mia chiavetta USB subito alcune indicazioni su che cosa vogliono dire questi segnali queste icone tanto per spiegare un po' questa è l'icona se la premiamo viene fuori uno in pratica il brano che noi stiamo ascoltando verrà ripetuto in eterno se questa icona con la cartella vuol dire che se noi sulla chiavetta USB abbiamo diverse cartelle e siamo dentro una di queste cartelle in pratica la scelta dei brani avverrà solo all'interno di questa cartella se invece non abbiamo cartelle o probabilmente anche se abbiamo più cartelle in questa maniera qui la scelta è su tutti quanti i brani presenti sulla chiavetta questa icona ci permette di ascoltare i brani in ordine alfabetico in pratica oppure scambiando l'ordine alfabetico con questa opzione abbiamo la possibilità non di cancellare il file della chiavetta ma di nasconderlo al sistema multimediale quindi questo brano non verrà più riprodotto qua il discorso della qualità dell'audio live dynamic reference natural concert eccetera è la possibilità di cambiare come si sente la radio modalità parcheggiatore lo vedremo in un video a parte perché non ho ben capito come funziona o meglio dovrei aver capito come funziona ma non mi è molto chiara la funzione di questa roba qui suoni della natura l'abbiamo già visto abbiamo la possibilità di ascoltare dei suoni della natura onde del mare calmo onde del mare calmo giornata di pioggia eccetera ovviamente appena terminato il video la registrazione sono andato a curiosare e ho trovato la funzione per evitare il salto tra radio DAB e FM ormai però avevo già terminato la registrazione siamo anche andati piuttosto lunghi con il nostro video per cui lo vedremo la prossima volta e anche per questo video abbiamo terminato e quindi l'appuntamento è al prossimo video